Dall'Allianz Stadion di Torino, benvenuti a Juventus Lazio, banco di prova, uso di Becco Celeste, da parte Luigi Sinibaldi, partiti, pallone ancora verso Asamoa, versione ancora a Matuidi, detto verso Chedira, Stragoscia Miracolo, poi il gol ma c'è fuori gioco, è fuori gioco, è fuori gioco netto, è fuori gioco netto, l'arbitro non vede, vediamo un po', passano i secondi, hanno esultato in tutto lo stadio, ma la verità è che ancora il gol non è stato convalidato e il gol viene assegnato, incredibilmente, Chedira che avanza, cerca di tutto lo spazio per il tiro in porta, arriva adesso, Stragoscia, in calcio d'angolo, ha tentato il jolly Non visto, tiri dalla distanza, Seri Matuidi, Chedira, anche lo stesso Chedira, mamma mia che rischio Stragoscia, con Higuain, ha colpito la traversa da un centimetro Asamoa, Olavalo spacca, Lucas Leiva, l'uomo dell'uno contro uno, ancora Lucas, che palla per Luis Alberto, salpa Luis, carica il sinistro, salta tutti, Luis Alberto e salva tutto, incredibilmente Chiellini L'interruzione da parte di Mazzoleni, che va a fischiare fino al primo tempo senza recupero, 1-0 Marusic e Patrick erano stati in ballottaggio fino a ieri, intanto Luis Alberto, attenzione, palla buona per Immobile, Immobile! La mette dentro Ciro, Ciro Ciruzzo all'Alea Stadium, la mette dentro, 1-1, Bucato Buffon, ancora per l'ennesima volta da Ciro Ciruzzo, decimo gol in campionato Poi attenzione al pallone, ottimo, normale il vantaggio, Higuain, Mangiochic, ancora per Higuain, attenzione davanti alla porta, ancora Higuain, Higuain, Stragoscia, ma che parata è? Poi Milinkovic, attenzione, palla ancora, Immobile, Immobile, a terra, a terra, calcio di rigore, Rosso Fuori il cartellino, Mazzoleni, fuori il cartellino, Mazzoleni, non te lo dimentico Ma è estratto il giallo, ancora con questo giallo, ma come si fa? Non se ne va più Prendiamoci questo calcio di rigore Fischia Mazzoleni Ciro, Ciruzzo la mette dentro, ancora Ciro, Lazio in vantaggio allo Stadium Gruppone bianco celeste, Immobile, la mette dentro Al nono minuto della ripresa Ancora Lucas Leiva, che palla per Milinkovic che stoppa bene Vai Sergione, vai C'è Sergio Milinkovic Buffon Davvero tantissima tensione sui volti dei dirigenti Nani Palla dentro, attenzione, la parola le manda lì E c'era il colpo di testa di Milinkovic Con Buffon che va a lanciare a Samoa Adesso occhio, attenzione, di bala, c'è il treporto di bala Palo, palo, palo Che trova il pallone, ancora tutto regolare, Milinkovic Felipe Caicedo, l'altra porta Felipe Buffon Si è opposto 48 e 54 Deviazione Felipe Caicedo si deve impegnare ancora Patrick, di testa La palla rimane ancora Patrick Palla, attenzione Non c'è nulla Mamma mia Mamma mia, oddio Mamma mia, veramente c'è di tutto Rissone, Patrick Attenzione di bala Tutti contro tutti Tutti contro tutti C'è un uomo della sua terra Vediamo un po' Mazzoleni Va Vediamo un po' Var Calcio di rigore Incredibile 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 Rigore per la Juve Vinciamo 2 a 1 Stragoscia 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 Dopo 15 anni Vinciamo a Torino Con una cosa pazzesca Pazzesca Da impazzire Da impazzire Da impazzire Sio 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 Sio